S.C.A. Incollodi è una fabbrica S.C.A. specializzata nella produzione di bobine madri con carta colorata. Situata nei pressi di Lucca, nella bellissima Toscana, S.C.A. Incollodi è attiva nel mercato delle bobine già dal 1983, offrendo un vasto portfoglio di prodotti e servizi. S.C.A. Incollodi. Grande flessibilità, estesa gamma colori e alti livelli qualitativi fanno di S.C.A. Incollodi una fabbrica leader in Europa e nel mondo nel campo della produzione delle bobine madri di carta colorata. S.C.A. Incollodi. Veniteci a trovare presso il nostro stand alle prossime manifestazioni fieristiche alle quali parteciperemo. Consultate il nostro sito e il nostro canale web Expo Yes per conoscere le date esatte delle fiere.